Ciao a tutti e benvenuti ancora sul canale del Calcio e del Baby Pirata. Oggi sono qui per raccontarvi, come vi avevo detto martedì, i voti che vi dovevo dire. Ieri Serra, ragazzi, ieri niente da fare. Serra ha annullato il gol a Messias solo per farci perdere. Infatti già si ha fatto gol e quello nemmeno segna. Comunque, io non so se lo sapete, oggi è il compleanno di Samuel Castiglieco che compie 27 anni. Vi dico che ieri è stata una partita bellissima, però alcuni giocatori nostri... Proprio bruttissima la partita. Come abbiamo visto, Teo Hernandez ha sbagliato il rigore e niente, poi gli abbiamo subito gol dallo Spezia, perché lo Spezia è stato bruttissimo, ha giocato malissimo, quindi non è neppure meritato oggi di vincere. Oggi saranno stati a scuola, perciò oggi non mi avete visto subito, come vi avevo detto. Mi ero dimenticato di dirvi che è martedì o venerdì, vabbè, gli altri giorni della settimana, tranne sabato e domenica, io sto a... come si dice? Vabbè, sabato e domenica sto a casa e poi gli altri giorni della settimana sto a scuola. E allora, oggi sta giocando la Lazio, sta già giocando, non so quanto stanno perché non me ne frega niente della Lazio e dell'Udinese, perciò non lo sto vedendo. Andiamo oggi alle belle pagelle. Mike Magnon, ieri bravo, bravo, ma subito due golle, vabbè, quello già sì, non ci poteva fargli niente, ma magari un piccolo tuffo poteva fare per prendere il pallone, quindi... A Magnon gli do cinque, cinque, dai, non gli ho dato quattro, ma gli ho dato cinque. Andiamo, aspettate che vi dico subito il prossimo. Andiamo da Calabria. Calabria ha fatto pochi minuti di partita, ma è stato bravo, quindi diamo un bel sette a Davide Calabria. Teo Hernandez, ragazzi, lui credo che il voto più basso, purtroppo, oggi è a Teo Hernandez, perché a parte non ha fatto quasi nessun tiro in porta e non ha fatto, purtroppo, mi dispiace per lui, che non ha segnato il rigore. Perciò lì do un tre, tre e mezzo, perché proprio... Andiamo, poi, oppure, vabbè, mi ricordo Calulus, Caludo, vabbè, Caludo è stato attento e gli do un bel sette. Ragazzi, guardate, io non ho visto bene la partita, perché ieri, non ve l'ho mai detto, ieri non ho fatto neppure il video, perché stavo a tennis dopo, alle cinque avevo il tennis, quindi perciò nemmeno mercoledì e giovedì non ci sono. E quindi mi vedrete subito venerdì. Come stavo dicendo, Gabbia, Gabbia deve sempre tenere il giocatore, perché se lo perde, si perde sempre il giocatore, quindi gli diamo un sei a lui. Florenzi, che ieri sull'adrenaline ho trovato pure, gli diamo un bel sette, attentissimo. Come la Roma e Venezia, attento, però è stato uno tra i più bravi, Florenzi. Andiamo al centrocampo. Selemekers, bravissimo al centrocampo, bravissimissimo, perciò gli do un bel sei e mezzo a lui. Andiamo a Braemdiaz, come Venezia e Roma, Braemdiaz attacca, però quando affronta un portiere non riesce a fare gol, perciò a Braemdiaz gli do solo cinque. Andiamo avanti con Timo e Bakayoko. Ha emiziato male, purtroppo aveva emiziato male il campionato con il Milan, perché sbagliava tutto. E gli do un... Oggi ha fatto una bella partita, sta migliorando in questi giorni, quindi gli do solo un sei. Bravissimo, Bakayoko. E andiamo avanti con... Aspettate... Junior Messias. È entrato Messias, ha emiziato malissimo, però scandaloso il gol. Perciò io lo avevo alzato a dieci, ora gli do pure un otto. Quindi il voto per il momento più alto è Junior a otto. Andiamo ancora avanti, in attacco andiamo del Milan che abbiamo Ibraimovic. Ibra, attentissimo. Ibra è stato proprio attento ieri, quindi gli do però un sei e mezzo perché faceva tiri, ma tutti da Provedel, tutti i suoi parate da Provedel. Rafa, Rafa è ancora sta aumentando a fare il fortissimo giocatore. Rafa e Leao si merita un bel tredici e mezzo. Tredici e mezzo, vedete? Ma che cosa ha fatto Leao? Ha fatto gol, poi ha fatto altre occasioni, ma non è tipo niente, non ha fatto. Però ragazzi, Leao è stato giocato benissimo. Voi avete visto la partita? Però vi dico, Leao è stato attento e quindi ha fatto una bellissima partita. Quindi il voto più alto oggi è Rafa. Andiamo ancora avanti con Olivier Giroud. Olivier, così è così, non ha giocato, sembra che ha toccato palle, ci ha fatto quasi vincere. Ci ha fatto vincere, però è meglio avere rispetto con Ibre, ho capito che è difficile, però al massimo vinci la partita. Oggi è tutto ragazzi, ci vediamo venerdì, perché è giovedì, mercoledì non riesco a farcela. Venerdì pomeriggio, pomeriggio. Ora vi spiego subito il perché, perché come sapete io ho scuola, pomeriggio alle 4 finisco la scuola, perciò devo per forza, come si dice, fare il video venerdì, ma verso le 5 o 4, quando ho finito i compiti. Oggi è tutto, ciao a tutti!